Ciao a tutti, rieccoci qua ancora una volta con The Forest Vediamo se riesco a dormire senza che mi attacchi qualcuno Allora Se non mi riesci ad uscire Vedesci Allora Ho recuperato un po' di armatura qua nel 3 Voglio arrivare a 5 in modo da avere l'armatura completa Il problema è che sono stato attaccato da un po' di gente Soprattutto dai mostri bastardi Che continuano ad entrare da lì Allora Devo recuperare un po' di cose Ah, un po' prima Ok Devo recuperare sticchetti Soprattutto dai mostri 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 Sticchettini Soprattutto dai mostri Atechen Questa Eccola Un po' di cose aze Sui Eccola Eccola eh E receptive Attr attached אפ etta ho scappato a nave non se per caso non mi sono troppato non comino niente cina non c'è meno cina non c'è meno c'è meno di un certo meglio ti lancio non si è intrapulato qualcosa non c'è meno non c'è meno si 4 4 se non ancora 1 ok 5 un certo ripreso mettiamo la casa c'è un po' facciamo giù un domino ... due io e mettiamoci l'armatura completa ok allora ho costruito questo in tale che anche da dietro sono protetto vorrei vedere dove c'è qualche buco per costruirne un'occuratesta sono coperto qua la metto ho i uccellacchi è è è è è è è è andiamo a pescare devo rifarmi un po' di molto voglio trovarmi il liquore se non sbaglio qui abbiamo un po' di più non 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 e 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 ciao a tutti